A Pompei un'iniziativa per riportare in luce il caso di Chico Forti ancora in carcere in Florida. C'era anche Andrea Bocelli. Una scultura per Chico Forti, una figura umana che tenta di liberarsi. L'opera realizzata dall'artista Nello Petrucci con il sostegno del comune di Pompei vuole richiamare ancora una volta l'attenzione sul caso giudiziario del produttore televisivo e velista da 22 anni in carcere negli Stati Uniti, condannato all'ergastolo per omicidio. Forti si è sempre dichiarato vittima di un errore giudiziario. Sono impegnato affinché, per essere la voce di chi non ha la voce, in questo caso di Chico Forti. La cerimonia si è svolta a Palazzo De Fusco. C'erano il sindaco Lo Sapio e il tenore Andrea Bocelli con la moglie Veronica. Nonostante ci sia stato il via libera con riserva del governatore della Florida dal trasferimento di Chico Forti, nulla è stato fatto per rendere operativo il provvedimento. Bocelli, insieme ad altri personaggi pubblici, da anni si batte per farlo tornare in Italia. È una richiesta che si deve andare alla unità per tutto il popolo. Nel febbraio scorso, in occasione del 63esimo compleanno di Chico Forti, i Bocelli sono andati a trovarlo in carcere. È stato un incontro che rimarrà radicato nei nostri ricordi e nei nostri cuori, hanno poi scritto sui social. Volevamo dargli fiducia e positività, ma alla fine sono state le sue parole ad andare oltre le barriere. Possa rivedere il vericello di Sarda, che è il vericello, la sua mano, l'aspetto e l'attenzione.